Eccoci qui, buongiorno. Questa è la nostra manzarda della Residenza Ambietz, giusto? Sì. Come va, è bella? Sì, sì. Questa manzarda è tutta di legno. E stiamo a 301. 301, vediamo. Baccaggio blu. Vediamo qui, questa è la visuale che abbiamo dal balcone, il nostro balconcino. Eccola qui. Questa è una pista che passa qui dietro, anche se non è ancora aperta perché non è battuta completamente. Ciao. Allora, come va? Stiamo andando a sciare? Sì. Siamo pronti? Sì. Qui dormono le bambine, questo letto matrimoniale a ribalta. E questa è la monellina. Ciao. Vieni, vieni. Tavolo? Tavolo. E qui, qui su questo divano, di fronte alle sorelline, dorme Elodia, Anche se spesso viene a dormire con noi. Angolo cottura. Sì, angolo cottura, amici! Qui c'è un lucernaio proprio sul tavolo. Qui c'è il mammacone bagno che si sta truccando. E questa è la camera da letto. Anche questo con un bellissimo lucernaio. Di qua si vedono, sono questi giorni che c'è un cielo, si vede un cielo stellato la notte bellissimo. Papà, mi fai vedere? Mi fai vedere? Mi fai vedere? Hai visto? Lì, un vecchio. Ciao. Lì, un vecchio. e qui fuori c'è la neve e ora non tocchi più però la nuota dai dai per la nuota dai per la nuota nota nuota senza aggrapparti dai nuota grazie grazie